l'ensuola bianca alle finestre fiumi di latte sull'asfalto non si ferma la protesta dei pastori sardi e giorno dopo giorno si moltiplicano le manifestazioni di solidarietà come quella delle aziende e dei commercianti che hanno abbassato le serrande quella degli studenti che sono scesi in piazza i comuni dell'isola si stringono in un abbraccio virtuale attorno agli operatori del comparto e mentre il governo nazionale assicura il massimo impegno a pauli latino ed a basanta nuovi blocchi sulla statale 131 a tramazza il latte piove dalla pala di un trattore a cabras invece un altro volto della protesta questa mattina nella piazza del comune i pastori hanno prodotto formaggio e ricotta da donare